e salve a tutti youtubers qui Kale84 e bentornati su Five Nights at Freddy's 2 siamo arrivati alla terza notte e l'ultima volta Chica ci ha dimostrato che nonostante lei sia al vecchio modello è ancora perfettamente in grado di muoversi vorrei sapere perché non li hanno ancora sbollonati completamente questi cosi comunque, ok, questa volta ce la dobbiamo fare via ok questa volta per qualche motivo il tizio non ci parla ma va bene lo stesso carry on comunque, mi sono fatto un'idea alla fin fine non c'è bisogno di guardare in giro per le stanze è sufficiente sparaflashare qui e sparaflashare qua basta, non c'è molto altro da fare e verso l'inizio non c'è troppo pericolo più o meno sono già agitato, perfetto e semplicemente sparaflashiamo tata 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 tipo ok, vediamo un po' i nostri amici a posto a posto a posto a posto non lo so a posto che è successo, che è successo, che è successo, che è successo ho sentito un rumore ahhh ciao ciao a tata 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 usa 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 Hep super aha us ah doc non voglio sentire queste risote o se ne è già andato dove sei? dove sei? dove sei? dove sei? dove sei? dove sei? oh cica siamo oh banni ciao oh no music box music box music box qualcuno si sta muovendo foxy 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 spara flash a foxy va a ricaricare il music box velocemente 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 qualcuno si muove ciao ciao banni ciao 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 banni sono veramente impressionanti i vecchi modelli sembra un terminator banni c'ha pure gli occhi rossi ho fatto apposta ho capito non è satana che li comanda è skynet oh mamma skynet che comanda i pupazzi di freddy fredsberry pizza e freddy è il team mill no è il t800 vabbè basta oh carica 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 ok se ne sono andati ah io ti spara flash anche a te magari funziona ok se ne è andato quindi se gli spara flash funziona gradirei vedere quello che c'è lì oh cico non so perché tu sei la peggiore di tutti la peggio di tutti lo giuro sei quella che mi spaventa di più fra tutti cico oh si è avvicinata si è avvicinata si è avvicinata io non posso 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 Non se ne va, non se ne va, non se ne va Non se ne va, non se ne va Non se ne va, non se ne va Se ne è andata? Dimmi che te ne sei andata, ti prego 3 del mattino a metà batteria Ok, ce la posso fare, vuol dire che posso farcela Ah ah ah, ciao Banni Ciao Banni, ciao Banni, ciao Banni, ciao Banni Carica, 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 carica Cicadino, ma che cosa fate? Date il cambio Ho capito che questo non si muove una foglia 4 del mattino, 4 del mattino, 4 del mattino Ce la posso fare, ce la posso Questo gioco mi fa impazzire Oh, ho già capito, ho già capito Oddio, sono tutti qui Sono tutti qui, sono tutti qui, sono tutti qui Foxy, no Foxy, è il peggio di tutti Foxy Sono le 5 del mattino, ce la posso fare, ce la posso fare Ti prego, ti prego, ti prego A favore Ok, ok, fermo, fermo, ok Ce la posso fare, ce la posso fare Sicuramente ce la farò Ne sono ce la posso fare, che la posso fare, che la posso fare No, 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 no oh ancora? sentite ragazzi ciao Golden Freddy per... perché sei qui? ehm credo che sia per succedere qualcosa di molto brutto ok mi aspetto una nuova telefonata ecco io comincio già a spara a flashare oh 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 ok ehm perchè? ma dove sono tutti? ti fissano gli adulti ottimo oh 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 non lasciarmi qui da solo oh 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 sapevo che dovevi arrivare prima o poi lo sapevo che saresti arrivato lo sapevo oh 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 perché tutti e due adesso perché 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 tutti e due oh 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 Chace hop, pace, 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 pace MamEi ottenendo che si scarica immediatamente! Adesso sto coso Non ce la farò mai, non ce la farò mai fare questa notte Non ce la posso fare Non ce la faccio Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio Non sono sicuro Carica, 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 carica Carica, carica, carica flash 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 maschera è ancora lì se devi venire fuori fallo in fretta ti prego ok se n'è andato se n'è andato cosa sono tutti sti suoni sti rumori che ci sono cosa sta succedendo qui è skynet ve l'avevo detto io che era skynet ve l'avevo detto voi non mi credevate ok ok ragazzi penso che l'episodio di oggi si può concludere qui un po' prima del previsto spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso cliccate su mi piace commentate iscrivetevi al mio canale per altri video e noi ci vediamo alla prossima puntata oh mamma mia quel foxy è inquietante a dire poco ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti